di nuove regole, perché insomma i cittadini sono alle prese con nuove restrizioni. Allora, zone rosse, cerchiamo di capire che cosa possiamo fare nelle zone rosse. Ci possiamo spostare, possiamo portare i figli dai nonni, possiamo far venire i nonni a casa perché magari ci fanno da babysitter. Cerchiamo di capire un po'. Allora, le regole sono ormai simili da quelle di novembre e io consiglio sempre di andare sulle fac del governo, sul sito del governo, ci sono le fac che sono ormai rodate e dettagliate. Certo, in zona rossa si può uscire di casa soltanto per comprovati motivi, d'urgenza, di salute, di lavoro. Per quel che riguarda gli spostamenti, quindi sono solo collegati a dover andare a fare delle cose comprovate, si esce solo con autocertificazione. In zona rossa ci sono le scuole chiuse, anche se questa è una decisione soprattutto regionale. Per quel che riguarda, per esempio, l'attività motoria, no, questo è un punto interessante. Cioè lo sport, l'attività sportiva. Eh no, bisogna distinguere fra motoria e sportiva, perché noi burocrati siamo precisi. L'attività sportiva è consentita entro il comune e addirittura se il mezzo lo richiede, tipo la bicicletta, posso anche uscire fuori comune in attività sportiva. Invece l'attività motoria è in prossimità dell'abitazione. Quindi la passeggiatina devo farla intorno a casa. Non ti dimenticare che il professor Celotto ha scritto un libro il cui titolo è esisteva prima l'uomo o la carta bollata, quindi... Ferra i libri, peraltro. Ferra i libri, naturalmente. Senta, professore, che rischia uno che esce così per i fatti suoi senza giustificato motivo? Allora, senza giustificato motivo. Sì, questo è importante. La sanzione è la sanzione amministrativa. Questa multa che va da 400 a 1000 euro, che ti viene irrogata immediatamente, ed è ricorribile al prefetto. Se invece io faccio falsa dichiarazione, cioè scrivo nell'autocertificazione qualcosa di non vero, vado a incontrare gli extraterrestri, per esempio, lì è un reato penale. Penale. Penale, quindi c'è il processo e ci può essere anche una condanna a reclusioni basse, però comunque è un reato quello. Materia che interessa i bambini e i genitori. Posso portare il bambino al parco? Allora, al parco si può andare sempre in prossimità e sempre rispettando il distanziamento sociale. Mentre, come mi chiedeva prima, per i nonni si può fare, ma è sconsigliato, perché sappiamo che i nonni sono categorie a rischio. Però anche proprio la domanda che c'è sul sito lo spiega. È sconsigliato, ma in stato di necessità lo si può fare. Professore, abbiamo un minuto. Domanda per intenditori. Questa volta le norme sono con decreto e non con DPCM. Che differenza c'è? Questo è veramente per intenditori e amanti. Per la lode. Per la lode, per amanti della democrazia parlamentare. Cioè, il decreto legge è un atto legislativo del governo, ma che va in Parlamento. E quindi consente al Parlamento il pieno dibattito. Questo garantisce pluralismo, trasparenza, tutti quei principi cari proprio alla Repubblica parlamentare. Il DPCM, invece, è un atto del solo governo, della sola maggioranza, che quindi ha un dibattito meno ampio e coinvolge meno il Parlamento. Quindi, dal punto di vista delle garanzie costituzionali, preferiamo un decreto legge. Grazie, professore. Tornerà. L'ho meritata la lode? No. Lode, lode, lode. Tornerà. Ma come sempre. Non si può mettere in discussione. Lei mi ha detto tornerà al prossimo appello. No, tornerà per la prossima sessione. Un libretto d'oro. Un libretto d'oro. Esiste ancora il libretto? Mi sa di no. Alcune università sì, altre no. Altre è elettronico. Basta, basta. Ci siamo. Abbiamo finito. Grazie per questo ceroso davvero. Vediamo che ci dico.